allora buongiorno siamo arrivati al passivo guardate l'immagine che è qui in alto c'è una bella casetta, finestre, porticina e soprattutto una targa che indica l'anno di costruzione la frase che abbiamo sulla destra ci descrive questa casa this house was built in 1961 la forma verbale che è usata in questa frase è una forma passiva fate caso invece alla differenza che può esserci tra la costruzione attiva e quella passiva somebody built this house in 1961 frase attiva this house was built in 1961 la differenza fondamentale tra una costruzione attiva e una passiva è che nella costruzione attiva si dice ciò che il soggetto fa my grandfather was a builder he built this house in 1961 nella seconda frase it's a big company it employs 200 people quando invece usiamo una costruzione passiva vogliamo sottolineare, mettere l'accento su ciò che succede al soggetto how old is this house? it was built in 1961 e nella seconda frase 200 people are employed by the company sorry dunque quando usiamo il passivo chi o che cosa provoca da inizio a un'azione, a un fatto è spesso sconosciuto o comunque non importante se d'altra parte vogliamo esprimere chi o che cosa fa o dà causa a un'azione, a un fatto il complemento d'agento di causa efficiente viene espresso viene introdotto dalla preposizione by come abbiamo già visto il passivo il simple present passive è composto dall'ausiliare be nel tempo presente e dal participio passato del verbo principale abbiamo ovviamente anche un pass simple passive in quel caso useremo il pass simple del verbo sempre to be e il participio passato del verbo principale soffermiamoci ancora un momento a confrontare le forme attive e le forme passive di una stessa frase, cioè di uno stesso concetto espresso nei due modi somebody cleans this room everyday e la forma attiva this room is cleaned everyday nel passato useremo ovviamente il pass simple nella forma attiva e il pass simple passivo composto dall'ausiliare e dal participio passato somebody cleaned this room yesterday e sempre this room was cleaned yesterday per permettervi di esercitarvi aggiungerò una fotografia un screenshot della pagina degli esercizi che potrete eseguire ovviamente sul vostro quaderno grazie arrivederci